L'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in congedo, delegazione di Sernia, in piazza della Repubblica di Sernia, oggi con uno stand informativo. Protagonisti della campagna come caratteristico delle iniziative Io non rischio sono i volontari e le volontarie che hanno il compito di diffondere nei territori dove operano ordinariamente la cultura della prevenzione del rischio sismico, aspetto prioritario nell'ambito dell'azione di protezione civile sul territorio. Vincenzo Bongiovanni oggi in piazza con importanti motivazioni di prevenzione. Oggi per il terzo anno consecutivo siamo in piazza come in tutta Italia in più di 700 piazze, più di 7000 volontari per dare quelle che sono le buone pratiche di protezione civile. Visto e considerato che pochi mesi fa c'è stato un forte terremoto del centro Italia, quest'anno è ancora più sentita l'esigenza di dover divulgare quelle che sono le buone pratiche di protezione civile, quindi tutti quei consigli per quanto riguarda il da farsi il prima, il durante e il dopo il terremoto, quindi essere consapevoli di vivere in un territorio ad alto rischio sismico significa sapersi comportare in una certa maniera e comportarsi bene. Da quanto tempo si svolge questa campagna in tutta Italia? In tutta Italia questa campagna si svolge da sei anni e la nostra piazza è attiva da, questo è il terzo anno consecutivo, quindi abbiamo già avviato altre volte questo tipo di informazioni e cerchiamo di essere più divulgativi possibile. Quali azioni preventive possiamo attivare nelle nostre abitazioni? Bene, come prima cosa possiamo tranquillamente assicurarci i punti sicuri, quindi sapere dove abbiamo le colonne, i muri e le travi portanti, queste ci consentiranno in caso di una scossa di terremoto di poterci mettere nelle immediate vicinanze e stare sicuri in quel luogo, oppure un tavolo, oppure un letto qualora abbiamo la possibilità di poterci mettere sotto. Questo possiamo fare anche, blocchiamo gli armadi, blocchiamo le vetrinette, blocchiamo gli scaffali, abbassiamo tutte quelle cose che possono essere in alto a uno scaffale in modo tale da mettere nella parte bassa perché potrebbe caderci addosso, allontaniamo delle mensole qualora dovessero essere nelle vicinanze di letti, divani oppure in cucina perché sono le stanze dove di solito si vive di più nell'arco della giornata e quindi sapere che bisogna poi chiudere acqua, luce e gas in modo tale da rendere sicura casa nostra in caso una volta terminata la scossa e quindi poi poter andare all'esterno e una volta usciti andare nelle aree designate dal piano comunale di protezione civile qualora ci fosse. Se non ci dovesse essere nel vostro comune un piano comunale sarebbe buona norma andarlo a richiedere che poi venga fatto perché è una cosa obbligatoria per legge e quindi tutti i comuni devono poter avere questo tipo di piano comunale.